L'area di rigore è chiuso però dalla difensore della formazione perugina Materazzi mentre in questo istante collina dichiara confuso e confuso sono le 18 e 4 minuti Campioni! Campioni d'Italia! Bisteccole mio! Avete sentito la radio dal tennis? E' bravo! Dal tennis sotto olimpico Lei è juventino o padre? No Che cosa? L'avete emozionata più di un... Sto più emozionato di tutti quanti, no? Perché ha preghato durante... Preghiamo per le cose serie Urti di metri dentro la curva Via Lazio! Grande Giampiero! Grande Giampiero! E' tutta la festa Vai! Vai sul capo, vai sul capo La festa bianca azzurra